Al raduno di Elisa, solo musica approccia, è appena finita Barry White, cosa metteranno adesso? Madonna? La canzone di Lady Oscar! Cosa Isa? Ma molto probabilmente, com'è bello far l'amore da Mon Falcone in giù! Mon Falcone! Ecco, rendetevi conto della musica che si sente al raduno! Concento di Madonna! Non è a Roma, ma è qui! Musica a Gaia! Tra un po' vogliamo uscire tutte le bandiere a scomaleno! Isabella, dove sei stata? Mamma, hai raggiunto il regista! Perché tutte le giornale ci hanno scritto un raduno che è andato in valore? What the chocolate희, da i! Ami amm. Cosa che fanno? Inoltre ci hanno bisogno di darci aspettare l'amore da inoltre e sceglie! E poi anche a te gli andi, e se le fanno!